Ciao amici del canale e chi se la credeva che mi sarebbe capitata questa cosa che vi racconterò più tardi. Questa è una breve clip per dirvi che vi ho portato in un posto nuovo. Sono emozionato. Avete visto che prima tremava il cellulare con cui sto riprendendo? Guardate che vista che ho. Ho anche una terrazza da quel che ho capito, ma la vedremo insieme. Quindi un caro saluto, restate collegati, iscrivetevi, attivate le notifiche perché al più presto ci sarà un gran bel video. Ciao!